Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua pronti ad andare a fare l'Eurotour perché abbiamo appena finito appunto il Tour de France portandoci a casa comunque una maglia qua e dei discreti risultati quindi possiamo andare all'Eurotour dove ci aspetta il pavé non sarà facile, non sarà facile ragazzi inizia la gara, gioca, vuoi modificare la tua squadra? aspettate, premo sì, solo perché devo vedere chi mi lascia fuori Queen, sì, va bene, teniamoci Craddock perché c'è una cronometro finale va bene, lasciamo fuori Queen, tanto comunque abbiamo gente forte anche in collina quindi non ci serve e possiamo andare subito a fare la prima tappa che penso che ci giocheremo con Boisven anche se in teoria non dovrebbe più essere in forma perché aveva il piccolo durante il Tour e quindi andiamo a vederci, credo solo arrivo e in realtà siamo al traguardo volante, non già all'arrivo perché con Simmons possiamo provare a fare la classifica della maglia verde essendo l'unico che è in picco di forma dovrebbe farmi tutte le tappe lui quindi proviamo a prendere qualche punticino tentiamo una volata un po' dalle retrovie perché ci troviamo un filino indietro vediamo però Simmons che è partito bene per questi 17 punti quindi ce la fa? ce la fa il nostro Simmons che ha un buon più 2 quindi volata avrebbe 71 vediamo ora l'arrivo, sarà dura ma vediamo ultimi chilometri di questa tappa per la precisione 4 chilometri all'arrivo ormai 3,5 vediamo un po' se Simmons riuscirà a fare qualcosa contro i velocisti e qua ci sono ancora tutti i migliori perché comunque è una corsa dove ci sono appunto i migliori quindi sarà veramente tosta ragazzi intanto vi ricordo che domani ore 16 saremo qua su YouTube in live per iniziare il tour con la Israel la squadra che è stata sorteggiata come prossima squadra da andare a fare il tour quindi non perdetevelo ora concentrati perché un chilometro vediamo raga vediamo proviamo a partire ora forse sono partito un filino troppo presto però vedete come sono partiti i velocisti ragazzi c'è poco da fare però vediamo Simmons che prova a venirne fuori in qualche modo ma nulla da fare speriamo almeno un piazzamento in top 10 più che altro per i punti della maglia verde arriviamo undicesimi quindi fuori dalla top 10 vince Merlir va bene così ragazzi questa era la tappa che più ci andava contro insieme alla cronometro finale cronosquadre che simuleremo perché io le cronosquadre non le gioco su sto gioco sia chiaro sono buggatissime non le gioco ragazzi andiamo in questa seconda tappa dove anche qua andremo a fare traguardo volante arrivo penso sempre con Simmons come tutte le altre tappe praticamente utilizzeremo solo Simmons credo traguardo volante ci sono in palio 20 punti perché la fuga è già stata ripresa vediamo se il nostro Simmons riesce a raccogliere qualche punticino partiamo di nuovo un po' da dietro però fa nulla partiamo proviamoci raga potevo partire anche un filino prima perché era leggera discesa me ne sono reso conto in tempo però va bene anche prendere un paio di punti proviamo a regolare almeno Cavendish non ci riusciamo vediamo però 8 punti dai va bene ragazzi 12 chilometri e mezzo all'arrivo c'è il primo attacco vediamo un po' se il nostro Simmons riesce subito a rientrare perché si è mossa anche la maglia gialla che è in merliv se non erro vediamo raga per ora il nostro Simmons risponde bene perché comunque è una tappa che viene segnalata come collinare e quindi è per questo che partono i soliti attacchi che poi alla fine non vanno da nessuna parte però comunque loro partono ci segna un buco che non c'è in realtà però va bene ok prendiamo il gel non l'ha preso Simmons spero fa nulla lo prendiamo ora occhio 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 ora non dobbiamo andare dietro ora non dobbiamo andare dietro gli attacchi dobbiamo rimanere belli tranquilli quindi Simmons per favore fai così e via vediamo ragazzi 8 chilometri 7 chilometri e attenzione no 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 devo stare più attento devo stare attento e devo rimanere dietro questi e attenzione attenzione perché si è creato un buco forse un buco che va chiuso è alla svelta speriamo che gli uomini IF lo facciano io non voglio sprecare il gel rosso ovviamente quindi è per questo che non voglio andare io in prima persona a seguire eh raga raga è andata me la sono giocata male io mi sa me la sono giocata male io vediamo proviamo a rientrare in qualche modo con il nostro Simmons che si rimette un po' in scia però non ha gel rosso no ragazzi penso sia abbastanza andata questa tappa perché non abbiamo poi il gel rosso per farla volata però vediamo eh perché li vedo tutti sui pedali quindi comunque loro stanno consumando barretta rossa vediamo il problema è che devo tirare dritto non devo fargli recuperare il gel eh la vedo dura eh ragazzi la vedo dura ho perso un po' l'attimo anch'io ho fatto anch'io la cazzata vediamo raga vediamo per ora c'è la jumbo bisma che si sta facendo la corsa contro stanno correndo contro in posto che aiutarsi è jumbo bisma vediamo vediamo ragazzi io provo a lanciarla ora la volata l'ho lanciata anche un po' troppo lunghina mi sa però vediamo Morcov non ne ha e arriva Van der Sande a sorpresa Van der Sande ragazzi Van der Sande vince però noi facciamo un'ottima seconda posizione che ci va bene sia per la maglia verde che anche per i secondi da buono dai accontentiamoci e allora arriva un vincitore totalmente di sorpresa che è Van der Sande noi arriviamo comunque secondi ci va bene tra l'altro guardate la jumbo bisma ha fatto anche terza e quarta allucinante bene per la maglia verde vediamo un attimo la classifica generale la maglia verde siamo secondi non male e maglia bianca siamo primi quindi comunque ci siamo andati a prendere una maglia andiamo alla prossima tappa che è anche quella un po' più difficile è quella con i settori di pavè anche qua andiamo a vederci traguardo volante e poi gli ultimi settori di pavè ragazzi 15 km all'arrivo sta per iniziare il penultimo settore di pavè e attenzione perché si sono già mosse un po' le alcune carte guardate davanti c'è il gruppettino di Mats Pedersen noi ovviamente siamo nel gruppo Van der Pool e Van Aert come al solito mi metto un po' a marcare loro e vediamo se ho fatto bene oppure no davanti c'è Pedersen che è anche un compagno perché c'è anche Stuyven e questo è il problema però raga con Simmons non me la sono sentita di seguire se no ovviamente avrei ripreso anche la corsa prima se andavo a seguire l'attacco insomma vediamo ragazzi vediamo ora in realtà possiamo, eh oddio ma andare avanti veloce in realtà no perché qua stanno partendo altri attacchi con Gunn e anche Philipsen che ci sta provando un po' sorpresa se vogliamo che Philipsen non stia aspettando la volata ma anzi ci stia provando speriamo che anche i nostri compagni rimangano qua, eh più che altro per la classifica generale anche la loro se riuscisse a fare qualcosa siccome poi nel finale c'è una cronosquadra e noi siamo messi bene e male cioè mezza squadra c'è anche, è discreta cronometro l'altra metà è una merda, capiamoci quindi sarà abbastanza dura la cronosquadra che simulerò ripeto, la simulo perché io non sono capace a giocare le cronometro squadre su sto gioco le reputo stravangate comunque ora che c'è un attimo di tranquillità vi ricordo appunto domani ore 16 live qua su youtube per il tour con la Israel dove andiamo ad iniziare facciamo la prima parte di tour quindi mi raccomando da non perdere ora stiamo attenti perché il gruppettino qua si sta riportando sotto il gruppo di Pedersen e più questo è l'ultimo settore di Pavè io ovviamente non voglio provare nulla è sincero non voglio anticipare anche perché in queste tappe ormai le conosco a memoria non riesci mai ad anticipare arrivare da solo al traguardo quindi aspetterei la volata magari di un gruppo ristretto per attenzione che c'è Vanaita attenzione che c'è Vanaita eh t'ho visto Vanaita t'ho visto Vanaita non mi sfuggi ti ho visto caro mio Vanaita avevo visto che era un po' troppo avanti per i miei gusti e ora speriamo che si riportino sotto 4 km speriamo che Vanaita con una gran bella azione si riporti sotto e il nostro Simons tocca a dargli il cambio a Vanaita va anche Van der Poel a collaborare la nostra squadra è un po' messa a marino eh parte Simons Van der Poel in realtà non collabora anzi attacca attenzione io piuttosto vado a lavorare con il ritmo 100 ma non uso il gel rosso comunque il gruppo di Peders è ripreso riparte Moritz io tiro dritto l'unica cosa che posso fare è così aspettare la volata nella speranza che loro si scannino usino gel rosso mentre il nostro Simons arriva con ancora un po' di gel proviamo a partire ora vediamo ragazzi Pedersen e Moritz là davanti il nostro Simons prova a rientrare forse ha aspettato troppo non lo so vediamo prende Pedersen ma non prende Moritz comunque altra seconda posizione che fa bene per la maglia verde però cavolo due seconde posizioni così un po' mi dispiace forse dovevo seguire Moritz non lo so secondo me ho fatto anche la strategia giusta quindi dai va bene così quindi vince Moritz noi arriviamo secondi ripeto va bene così secondo me ho fatto anche la strategia giusta perché se seguivo Moritz non avevo poi il gel rosso per far la volata quindi boh secondo me ho fatto bene così certo rimane un po' di rammarico perché di nuovo secondi però va bene così va bene così soprattutto anche per la classifica generale perché intanto siamo la nuova maglia gialla attenzione non ci pensavo che grazie agli abboni potevamo prendere la maglia gialla abbiamo preso la maglia verde che è un po' il nostro obiettivo di questo Euro Tour quindi buono abbiamo sempre la maglia bianca siamo quinti come squadra e combattività ovviamente non ci interessa la classifica per seconda squadre siamo terzi vi ricordo che noi siamo appunto in lotta con la Sudal Quick Step vediamo siamo lì a tre punti andiamo alla prossima tappa che è anche l'ultima che giocheremo perché come vi ho già detto la crono squadra la simuliamo muro di Wii l'arrivo a Wii ovviamente andremo a fare sia il traguardo volante che l'arrivo sempre con Simmons ci siamo ragazzi siamo già nel finale perché nel traguardo volante non c'erano punti in palio quindi siamo già nel finale ragazzi penultima salita e poi il muro di Wii attenzione a fuga attenzione a fuga che ha ancora 44 secondi di vantaggio quindi mantengono qualcosina di vantaggio ma andiamo a seguire gli attacchi un po' tutta la nostra squadra mi sa che più che Craddock Craddock in realtà no deve stare un po' tranquillo perché dopo c'è la cronometro magari lui mi aiuta la squadra ecco mettiamola così allora attenzione con Van Der Sander di davanti che sta tirando il nostro Simmons sempre nelle primissime posizioni a tentare di tenere un po' sotto controllo la situazione lui con la maglia gialla di leader di questa corsa attenzione che è partito un'accelerazione da parte di uno della Israel proprio la squadra che andremo ad utilizzare domani in live attenzione ragazzi allora passa indenne questo primo GPM però però la fuga ragazzi la fuga continua ad avere un vantaggio molto interessante ma molto interessante quasi un minuto anzi 50 secondi ora sul nostro gruppettino attenzione qua eh però ho capito ragazzi però sto gioco non è possibile giocarlo ragazzi ma cioè cosa potevo fare cioè mi hanno letteralmente tirato fuori c'è ti viene voglia di uscire e rifarla però no non lo farò non lo farò non c'ho voglia di farlo però boh veramente ragazzi questo gioco più lo continui a giocare più scopri cose che non vuoi scoprire ecco mettiamola così scopri nuovi bug scopri nuove cazzate vabbè questa non era nuova eh lo sai che se sei all'esterno ti buttano fuori fatto che almeno darmi un qualcosa per evitare quella questa situazione però vabbè fa nulla fa nulla raga concentriamoci perché comunque l'abbiamo l'abbiamo recuperata eh l'abbiamo recuperata attenzione però rimaniamo un po' staccolati da Van Der Poel e Krag Andersen con Pitcock che prova ad uscire dal gruppo ci ha già provato là davanti Benot Tish Benot che è andato su bello bello forte prova il nostro Simmons anche a reagire però ragazzi la fuga ragazzi la fuga l'uomo della della lotto destiny eh si ragazzi l'uomo della lotto destiny ce la fa De Genter noi arriviamo dietro a Tish Benot guadagniamo qualcosina ma poca roba perdiamo però qualche secondo da buono anche su Benot insomma un'altra tappa come in linea con le altre bene ma non benissimo c'è sempre il ramarico e allora vince De Genter noi arriviamo quinti secondi del gruppo mettiamola così comunque altra buona prestazione siamo ancora leader di questa corsa con 9 secondi di vantaggio proprio su Benot tra l'altro Jorgensen e Ull sono anche lì 13 e 13esimo e 14esimo abbiamo la maglia verde e credo che ormai ci siamo portati a casa quindi obiettivo raggiunto la maglia bianca sarebbe bello portarsi a casa ma Pitcock e la Inus soprattutto mi spaventano un po' per la cronoma a squadre terzi come squadra combattività non ci interessa raga simuliamo è il momento di simulare tappa veloce questi 34 km a cronometro ragazzi lo sapete non le gioco perché l'IA è tutta buggata fanno le curve buggate poi iniziano a creare buchi tra la squadra non rimane unita quindi non ha senso che la gioco cioè sincero non ne ho nessuna voglia la nostra squadra fa vediamo che prestazione ha fatto di squadra quinti ragazzi buon risultato brava la DP26 il nostro pro team america molto molto bene vince questa corsa l'eurotour lo vince Benot grazie alla super prestazione al cronometro della della jumbo ma si sapeva purtroppo Pitcock ci arriva davanti quindi arriviamo sesti in classifica generale comunque buono primi nella maglia verde quindi obiettivo centrato peccato la maglia bianca per solo 18 secondi arriviamo secondi ma anche quinti quindi non male squadre terzi e combattività non ci è interessato quindi vediamo un attimo la classifica pro cycle individuale che vede Jorgensen comunque guadagnare un paio di punti e rimanere quarto ma soprattutto quella squadra attenzione c'è il sorpasso c'è il sorpasso il protigma americo canadese va a superare la Sudar Quickstep tra l'altro con anche quasi 100 punti di vantaggio che non è affatto male raga buonissimo buonissimo ragazzi anche perché ora ci mancano due corse alla fine lombardia che non mi aspetto nulla e l'open tour dove dobbiamo tentare di massimizzare il più possibile i punti per battere la Quickstep arrivare secondi perché ripeto ormai Cus lo prenderemo perché nella top 10 ci siamo ma ci servono i soldi perché non dobbiamo solo prendere Cus dovremmo prendere anche altri americani forti come Paulus quindi c'è ci servono un po' di soldini quindi la seconda posizione ci serve assolutamente quindi io vi ricordo appunto che domani ore 16 iniziamo il tour con la Israel e forse lo finiamo proprio domenica quindi weekend all'insegna della Israel canale Twitch in descrizione ma ormai lo sapete non sto riuscendo a fare live su Twitch gli abbonamenti sono attivi se vi abbonate grazie grazie mille spero vi sia piaciuto il video se così fosse il like e quindi la prossima corsa che andremo a fare per il Pro Team America sarà l'open tour ciao ciao